E viva, e viva, siamo in Champions League. Sì, avete visto il mio entusiasmo di aver raggiunto questo obiettivo, anche perché è arrivato dopo la sconfitta della Roma, non certamente per meriti nostri. Sì, sono contento di andare in Champions League, ma assolutamente non entusiasta. Per quale motivo? Perché non ce lo siamo meritati, perché nelle ultime 15 partite abbiamo fatto pena, abbiamo fatto schifo, abbiamo fatto deprimere i tifosi di tutto il mondo, sì, perché questa Juventus non è una squadra che punta la Champions, è una squadra che punta a salvarsi, se proprio andiamo bene. Perché se tutto il campionato fosse stato come le ultime 15 partite, molto probabilmente adesso staremmo lottando per la salvezza, non festeggiare, se così si può dire, la Champions League. Io vedo alcuni entusiasti, ma non c'è nulla da essere entusiasti per questo risultato. Poi, per carità, abbiamo fatto una prima stagione buona? Assolutamente. La prima parte della stagione è stata molto buona. Poi, a un certo punto, si è spenta la squadra e non hanno più fatto nulla. E uno degli, credo, colpevoli maggiori, oltre ai giocatori che non hanno fatto il loro dovere, è sicuramente quello di Massimiliano Allegri. Io non ce l'ho con lui, perché comunque considero una buona allenatore, che però non ha le caratteristiche che servono attualmente la Juventus. Quali sono le caratteristiche di Allegri? Che è quella di mantenere la squadra così come la trova. E infatti, nei suoi primi cinque anni alla Juventus, ha avvento cinque scudetti. Perché? Perché è arrivato alla Juventus, aveva una squadra impostata, bella fatta, bella organizzata, con un suo gioco, con una sua identità, e quindi è riuscito a portarla avanti nei cinque anni seguenti, ottenendo ottimi risultati, fra l'altro. Ok, non ha dato nulla in più alla Juventus rispetto a quella di Conte, perché è stato un lento declino, lento per fortuna, perché altrimenti non avrebbe vinticinque, e quindi però con il suo lento declino è riuscito a portare a casa cinque scudetti. Poi è riuscito anche Sarri a vincere lo scudetto, quindi diciamo che il declino non era così rapido. Però la verità è che lui prende la squadra e la mantiene così nel tempo. non riesce a migliorarla, non riesce a costruire, non riesce a dare un'identità. Non ce la fa, o meglio, alla Juventus non ce l'ha mai fatta. Perché quella di Conte che ha preso in eredità è la stessa che ha portato avanti per cinque anni, lo stesso tipo di gioco, lo stesso ideal, gli stessi giocatori, comunque una buona quantità di giocatori erano sempre quelli. Poi nel momento in cui i giocatori che avevano, hanno cominciato ad essere vecchi, andarsene via, a cambiare squadra, a non essere più performanti come prima, ecco è andato in difficoltà. E infatti poi è stato ceduto per ricostruire la Juventus tramite Sarri. Perché Allegri non è un allenatore da costruzione, è un allenatore che mantiene. Quindi se lui, per assurdo, l'anno prossimo andasse a allenare l'Inter, sono convintissimo che vincerebbe lo scudetto. Vincerebbe lo scudetto perché lui, con una squadra vincente, la riesce a far funzionare. Una squadra invece, come la Juventus, che è ereditata da Pirlo, era una squadra che andava rifondata e ricostruita. Pirlo, poveretto, appena arrivato si è trovato una patata bollente, una squadra litigiosa, una squadra che non andava più d'accordo, una squadra che aveva perso un po' l'identità. E quindi ovviamente Pirlo, con la sua inesperienza, non è riuscito a fare assolutamente nulla. Poi è stato predominato da quelli che erano i senatori, quello che era Cristiano Ronaldo, che era più importante di lui in squadra. Quindi sicuramente Pirlo ci ha provato, ma non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Ma quando Allegri è arrivato, che doveva risolvere tutto, anche perché gli abbiamo dato la chiave della squadra, insomma gli abbiamo dato la possibilità di gestire per i prossimi, cioè per i quattro anni successivi, la Juventus. Quindi gli abbiamo dato chiavi in mano dello spogliatoio, gestione assoluta. E solo che, come abbiamo detto, gli abbiamo dato le chiavi, ma con l'impossibilità di andargliela a riprendere, perché con il suo contratto, con il suo staff, con le sue richieste, non si poteva toccare. E probabilmente sarà difficile, e non è detto che l'anno prossimo ci sia un nuovo allenatore, c'è da dire anche questo, speriamo che sia un allenatore nuovo, perché, come detto, lui è arrivato lì, si è preso la squadra, ma l'ha mantenuta nel tempo, perché la squadra di Birlo è una squadra che è arrivata al quarto posto, terzo posto, e lui non l'ha cambiata di una virgola. Nel primo anno qualcosa in più si era visto, aveva dato un po' di solidità difensiva, primo anno e secondo anno, ma anche in questo periodo si è visto che tutto quello che aveva fatto di buono, e ne ha fatto poco, nei due anni precedenti si è sciolto come neva il sole. E questo Allegri è uno che mantiene, non è uno che costruisce. E ad oggi a noi serve un allenatore che venga lì, che dia identità, che dia grinta, che dia gioco, che dia idee, e queste Allegri non ce le ha. E' inutile che ce le ammeniamo. E' questo Allegri, e' questo il suo stile. Se dovesse, ripeto, andare al Real Madrid, probabilmente vincerebbe anche la Champions, probabilmente, perché lui tiene la squadra così com'è, la riesce a mantenere nel tempo, cosa che non riescono tutti, abbiamo visto il Napoli, è andato via Spalletti, è arrivato Rui Garzia, l'ha fatta crollare al quinto posto, poi è arrivato Mazzarri, e poi l'altro, adesso non mi ricordo il nome, e l'hanno mandata ancora più giù. Quindi, non è facile mantenere la squadra. Lui ce la fa, e quindi su quello è bravo, ma non è assolutamente in grado di costruire una squadra dal nulla. Così o meglio, meglio non ha mai fatto in quello che è la sua carriera, perché la verità è questa. E quindi, ad oggi, noi ci serve un allenatore che sappia dare identità alla squadra, che sappia costruire il gioco, che sappia rifondare la squadra, con i giocatori che ci sono. Non è che possiamo andare a comprare i fenomeni, non possiamo andare a comprare Mbappé, non possiamo andare a comprare Rodrigo, non possiamo andare a comprare giocatori che sono esorbitanti, che hanno costi esagerati. Quindi dobbiamo costruire con idee, con parsimonia e con idee di gioco, non certamente con il denaro. Non ce ne abbiamo, quindi bisogna un po' accontentarsi. Certamente paghiamo meglio noi giocatori che altre squadre come l'Atlanta, è solo che loro hanno idee, hanno funzionalità, hanno costruzione e quindi riescono a ottenere risultati. Quindi ci vuole un allenatore che costruisca. Conte è uno di questi. Conte costruisce, distrugge e costruisce, distrugge e costruisce. Potrebbe essere l'allenatore giusto? Potrebbe, così come potrebbe essere Tiago Motta, non lo sappiamo, non c'è certezza ovviamente. Però ad oggi abbiamo bisogno di un allenatore che ribalti la squadra, che dia un senso nuovo al gioco della Juventus e che dia una identità nuova. Questo ci serve. Poi, se fosse per me, Conte non lo prenderei mai e andrei su Tiago Motta, costa meno, è un giovane, ha fame, a voglia e quant'altro. Conte sarebbe la minestra riscaldata che con Allegri abbiamo visto com'è finita. Quindi sicuramente andrei con Tiago Motta, costa meno, è un giovane, ha molte idee, ha la capacità di costruire anche con poco, quindi sarebbe la figura adatta. Poi, cosa succederà l'anno prossimo? Ovviamente non lo sapremo, fino a che lo leggeremo sui giornali finché non ci saranno notizie da varie fonti, però per ora bisogna ragionare sul nuovo allenatore. Non c'è alternativa, perché se dovesse essere l'anno prossimo con Allegri sarebbe la stessa identica situazione. Detto questo vi saluto e ci vediamo domani per la Coppa Italia. Ciao a tutti! Ciao a tutti!